Il Casore a schianta al Real Grumese al Barassi di Secondigliano, Mister Lamanna era la partita che si aspettava dei suoi giocatori? Sì, diciamo che è una partita che dovevamo farla per vincere, ci siamo riusciti anche agevolmente. Una partita tranquilla, non abbiamo mai sofferto, una partita che abbiamo fatto girare un po' la palla. E' andata tutto facile poi vedendo la fine della partita. Mister, oggi ha provato un modulo diverso, il Casore ha giocato con una sorta di 4-3-3, a differenza del consueto 4-4-2 che ha usato fino a questo momento. Sì, oggi abbiamo qualche assenza, abbiamo potuto giocare a tre davanti, tutto sommato è andata bene, però è ancora da rivedere. Infine Mister, sappiamo che lei vuole dedicare questa vittoria ad una persona in particolare, ieri è stato il compleanno di suo padre. Sì, ieri è stato il compleanno di mio padre, ha fatto 87 anni, gli volevamo dedicare questa vittoria, auguri a mio padre. Ieri era pure la festa del papà, è andata benissimo, proprio come l'aspettavo. E auguri a mio padre. Grazie. Grazie.